Aveva dormito poco e la sua prima preoccupazione questa mattina era contattare il 113 per chiedere chiarimenti in merito ad una lettera ricevuta a suo dire dalla polizia. Un fatto analogo accaduto a Pesaro dove una signora 90enne, vedova e sola in casa, si è vista arrivare una pattuglia dopo aver parlato a lungo con l'operatore del 113 spiegando quello che aveva ricevuto. La signora con tanta voglia di vivere e di parlare, forse spesso sola, ha aperto la porta di casa a due poliziotti che dopo averle spiegato la lettera che aveva ricevuto, altro non era che una richiesta di chiarimenti da parte di un'assicurazione, si sono intrattenuti con lei ascoltando i racconti di vita vissuta da quando decise di cambiare città e reinventarsi pur di dare ai suoi figli un futuro migliore. Per la mobile l'episodio accaduto è stato un intervento fuori dalla solita routine e risolto con una carezza e un abbraccio e qualche consiglio alla 90enne che aveva bisogno di un po' di compagnia e di parlare. La volante di Pesaro ha regalato con un semplice gesto un sorriso ad un'anziana donna.